Stand del gruppo Le Grand che qui all'Ise ha portato il suo nuovo claim Works with the Grand che significa integrazione con anche applicazioni di terze parti. All'interno del gruppo Le Grand, ricordiamoci, sono grandi nomi del home automation come BT Cino, a dirne una che alle nostre spalle espone proprio qui all'Ise gli ultimi prodotti presentati in campo in materia di oggetti connessi che è il programma Elliot del costruttore italiano. Quindi sono il videocitofono classe 300X, eccolo qui lo vediamo, insieme anche al termostato connesso Smarter. Questi prodotti sono tra gli ultimi presentati nella gamma del portofoglio BT Cino così come le funzionalità annunciate già all'inizio di questo anno con gli assistenti vocali di Google e di Amazon Alexa, così come altrettanto l'integrazione delle funzionalità con Apple HomeKit quindi un apparato di sistemi che possono controllare parecchi sistemi domotici all'interno delle nostre case e che quindi attraverso un solo costruttore e un solo nome di riferimento riescono a coinvolgere l'utente e a semplificargli la vita all'interno delle mura domestiche.